Affari tuoi, una puntata incredibile, 35.000 euro. Accettati, ma cosa c'era veramente dentro il pacco? Scopriamolo insieme! Ma prima ti chiedo di iscriverti al canale e di condividere il video. Grazie per il supporto. Nella puntata di Affari tuoi di ieri, i concorrenti provenienti dal Trentino, Massimiliano ed Erika, hanno vissuto un'esperienza altalenante piena di emozioni. Dopo un inizio difficile con due chiamate sfortunate, la coppia è riuscita a invertire la rotta grazie a un cambio pacco strategico che ha rivelato una cifra notevole inclusa nella colonna blu. Il cammino dei due concorrenti è proseguito tra alti e bassi, con offerte del dottore che non soddisfacevano del tutto e chiamate che eliminavano gradualmente le loro possibilità di vincita. Tuttavia, un doppio cambio ha portato una svolta nella partita. Nonostante avessero già ottenuto una somma considerevole, Massimiliano ed Erika hanno deciso di non aprire il nuovo pacco, portandolo con sé fino alla fine. Arrivati agli ultimi tre pacchi, con offerte del dottore che non soddisfacevano le loro aspettative, i due concorrenti hanno deciso di accettare l'offerta di 35.000 euro, temendo di rischiare di perdere tutto aprendo il pacco da 200.000 euro. Tuttavia, il pacco che avevano cambiato poco prima conteneva proprio quella cifra. Una scelta che avrebbe potuto cambiare completamente l'esito della partita. Massimiliano, commentando la situazione, ha espresso il suo sconcerto, dichiarando «Quando sei qui, vai in tilt». Una delusione palpabile per i concorrenti, che tornano a casa con una somma, ma con la consapevolezza di aver potuto ottenere molto di più se solo avessero avuto il coraggio di rischiare un po' di più. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.